La partita di Sassari è sicuramente una partita molto difficile, che andiamo là per giocare a viso aperto, consci del buon momento che stiamo attraversando e che vogliamo continuare a cavalcare. Sassari è un ambiente storicamente molto caldo, non ostile ma sicuramente molto caldo. Sarà importante per noi cercare di mantenere il controllo del ritmo il più possibile, per cercare di tenere la partita nei binari di stare a metà campo, senza lasciar loro esprimersi a tutto campo e quindi esaltare il pubblico. Chiaro che a metà campo ci sono dei giocatori con spiccate caratteristiche individuali, a spalla canestro Cooley, sul perimetro Smith, Bamford e Pathway, senza considerare l'energia che possono mettere sia Polonara che Pierre. Penso che il controllo dei rimbalzi sia fondamentale perché dal controllo dei rimbalzi scaturisce il ritmo della partita. Quindi avendo sotto controllo i rimbalzi possiamo poi gestire il ritmo in maniera migliore e poi sicuramente limitare al massimo le palle perse che aprono il campo al loro contropiede e all'esaltazione delle loro capacità in campo aperto. Grazie. 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 Grazie.